Ciao a tutti ragazzi e bentornati, al solito se ancora non l'avete fatto iscrivete in modo da ricevere le notifiche riguardanti i nuovi video pubblicati visitate la pagina facebook, visitate lo show, sostenete il canale con un mi piace e condividete i video in modo da aiutare il canale a crescere se volete mettervi in contatto con me utilizzate ho la pagina facebook oppure utilizzate la mail nel tutorial di oggi invece continuiamo la nostra playlist dedicata al Fusion e andremo a realizzarci un'antenna para colpi per i droni non procederò in maniera parametrizzata, vi ho fatto vedere come si fa, potrete farlo tranquillamente con questo tipo di esercizio una volta che l'avete fatto poi sarà semplice andare a parametrizzarlo ma andrò a realizzarmi comunque un'antenna droni che sarà parametrizzabile sfruttando proprio le opzioni stesse del Fusion che come programma permette la possibilità di variare molto le nostre opzioni quindi quello che facciamo è andare a spostarci sul piano orizzontale xy e andiamo a realizzarci una prima circonferenza all'interno di questa circonferenza che avrà un diametro ad esempio di 10 mm dovrà essere presente il foro per le viti di collegamento tra l'antenna ed il drone realizzerò metà antenna e l'altra metà l'andrò a specchiare quindi tutti i riferimenti saranno con riferimento all'origine quello che dobbiamo fare è andare innanzitutto a fissare questa posizione quindi utilizzeremo un vincolo di orizzontale e verticale con l'origine in questo modo e poi utilizzando D, dimension, andremo a posizionare questa distanza ad una ventina di millimetri in questo modo possiamo spostarci nello spazio e quello che faremo sarà di estruderla adesso io lo estruderò di una decina di millimetri ovviamente poi sarete voi a selezionare di quanto debba essere estruse in base alle dimensioni delle viti che avete a disposizione mi sposto ancora sul piano orizzontale sul piano orizzontale utilizzerò adesso un arco quello che sto facendo adesso con l'arco potete farlo ad esempio con l'issi se volete variare la distanza della porzione di antenna che poggia sul drone ma diciamo che con l'arco dovrebbe andare bene quindi non faccio altro che selezionarmi un arco e tra le varie tipologie seleziono arco mediante centro e punto fisso il centro, fisso come punto la condizione di tangenza e però lo vado a sviluppare soltanto per una sessantina di gradi in questo caso quindi questo è il mio primo arco e vado a realizzarmi un altro arco analogo a questo anche in questo caso lo andrò fate attenzione che non coincida con nessun punto in particolare lo andrò a sviluppare anche questo per una sessantina di gradi in questo modo e per quanto riguarda la distanza tra questi due elementi la porterò ad incirca 6 mm così ok posso andare a chiudere il mio profilo in questo modo e chiudo il profilo dall'altro lato in questo modo mi sposto nello spazio terminando lo schizzo e quello che posso fare è andare a distrudere questo elemento allora come vedete non ho forato prima in modo da semplificare i passaggi io vado a realizzarmi un'estrusione di all'incirca 6 mm ctrl z quindi seleziono ed estrudo allora io avevo selezionato estrusione l'estrusione a distanza deve essere di 6 mm e unisci e ok ecco quello che ottengo adesso potrei andare ad effettuare l'operazione di foratura su questo elemento però adesso non mi interessa lo facciamo alla fine anche questo sarà un elemento da considerare quale ad esempio le dimensioni delle viti e i fori di attacco sul drone adesso andiamo a selezionarci un altro piano per il nostro schizzo come piano utilizzerò il piano ZY in questo modo e su questo piano ZY mi vado a disegnare un rettangolo utilizzerò un rettangolo mediante 3 punti allora primo punto secondo punto e terzo punto questo è il nostro rettangolo che dovrà avere delle dimensioni fissate quindi stiamo lavorando con degli spessori di 6 mm questo lo faremo di 6 mm in questo modo per quanto riguarda l'altezza io per adesso la vado a fissare ad una quindicina di millimetri in questo modo ovviamente questo è un altro di quei parametri che poi potete spostare a vostro piacimento ma ingrandiamola facciamola di una ventina di millimetri invece di limitarci a 15 l'altra cosa che dobbiamo fare è andare ad imporre una condizione di verticale e orizzontale tra questi due punti in modo che siano posizionati l'uno sull'altro andiamo anche a quotarci questa distanza la possiamo quotare la facciamo di una decina di millimetri ok e l'altra cosa che possiamo fissare è l'inclinazione di questo elemento allora io adesso la faccio di una trentina di millimetri ma questo sarà il parametro che potremo variare per avere un'antenna più o meno inclinata la possiamo inclinare di 30 40-45 poi a seconda della tipologia di stampa che vogliamo ottenere dovrà permetterci di ottenere una buona stampa quindi andiamo a terminare lo schizzo e il nostro schizzo è terminato quello che dobbiamo fare è selezionarcelo e ce la andiamo ad estrudere in due direzioni distinte quindi come simmetrico di 3 mm in questo modo e diamolo ok come vedete sto lavorando a cavallo del piano centrale in modo da unire questo elemento una sola volta poi specchiarlo ed ottenere tutti e due i lati distinti adesso dobbiamo unirci questi due elementi per poter effettuare quest'unione utilizzeremo ovviamente l'opzione loft ma ovviamente l'opzione loft in questo modo non può essere applicata perché dobbiamo utilizzare altrimenti ci viene un parallelepivedo l'inclinato dobbiamo utilizzare delle spline quindi ci serve uno schizzo al solito questo è importante un qualsiasi schizzo io quindi ho selezionato schizzo ma quello di cui ho bisogno è di uno schizzo 3D e nel nostro schizzo 3D andremo a disegnarci le due distinte curve che saranno due e poi utilizzeremo anche le altre due quindi abbiamo bisogno di spline la primo tipo che dovrà partire da questo punto e dovrà arrivare a questo è ok scusate ctrl z ok quindi quello che dobbiamo fare è poi andare ad imporre la condizione di tangenza tra la spline e questo asse e la condizione di tangenza sempre tra la spline e questa linea ok andiamo a disegnarci la seconda spline che dovrà partire da questo punto e dovrà arrivare a questo e ok e la caratteristica di questa spline come al solito dovrà essere tangente sia a questo elemento che a questo andiamo a disegnarci le altre due spline nella parte inferiore quindi spline per questo punto fate attenzione agli elementi che selezionate e questo punto e andiamo ad imporre la condizione di tangenza tra questo e questo questo e questo ok e poi abbiamo bisogno dell'ultima spline che dovrà partire da questo punto e dovrà arrivare a questo l'unico rimasto e al solito diamolo ok e andiamo ad imporre la condizione di tangenza tra questo e questo e tra la spline ovviamente e questo ecco qua questo è il tipo di andamento che vogliamo allora possiamo terminare lo schizzo possiamo andare a richiamare il comando loft per il comando loft abbiamo bisogno di due superfici la prima è questa due o più superfici la seconda è questa e poi come vedete questo è quello che ci viene come loft iniziale andiamo ad aggiungere delle curve guida che saranno questa 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 e l'ultima questa e diamolo ok ok perfetto andiamo a crearci adesso la tasca su questa superficie tasca foro possiamo scegliere quindi se abbiamo bisogno di uno schizzo di una circonferenza che sia coincidente con la precedente e la facciamo di 5 mm questo ovviamente dipenderà dalle dimensioni della vite che vogliamo utilizzare e poi andiamo a richiamarci il comando estrusione ci selezioniamo come faccio la seguente e la facciamo inizio profilo direzione tipo di estensione tutto e diamolo ok l'ho fatto adesso perché adesso se mi vado a selezionare il comando specchio e seleziono come oggetto tutto il corpo con il piano di riflessione selezionato in questo modo e diamolo ok allora ho esattamente il mio elemento simmetrico in questo modo una volta determinata quindi questa inclinazione su questa faccia adesso possiamo andare a disegnarci la circonferenza generica quindi non la facciamo coincidere per adesso con nulla invece andiamo ad utilizzare l'opzione di coincidenza tra la circonferenza e questo punto tra la circonferenza e questo punto e poi tra questo punto e la circonferenza in modo da avere la circonferenza legata alle dimensioni del del nostro diciamo della nostra struttura la possiamo estrudere per l'estrusione andiamo a selezionarci uno tutti questi elementi quindi due tre quattro e cinque e come estrusione utilizziamo una decina di millimetri diamolo ok adesso ci possiamo spostare su questa faccia e su questa faccia andiamo a realizzarci l'altro schizzo utilizziamo ancora una circonferenza quindi ci coincidente con questa la facciamo di una ventina di millimetri e ce l'andiamo ad estrudere di un paio di millimetri ovviamente non solo questo elemento ma anche quello centrale l'estrusione sarà di due millimetri in questo modo andiamo a raccordarci questo spigolo in modo da poterlo stampare facciamolo di 6 millimetri diamolo ok ok così adesso andiamo ad effettuare uno schizzo su questa superficie per il nostro schizzo possiamo utilizzare un arco quindi con mediante centro e punto facciamo coincidere l'arco e ce l'andiamo a fare ovviamente ad una distanza di una decina di millimetri in questo modo quindi questo è il nostro arco quindi abbiamo bisogno adesso di una linea che dovrà essere una linea di costruzione che dovrà essere diretta in questo modo quindi dovrà essere verticale e ok e andiamo ad eliminare la condizione di costruzione per le linee quello che dobbiamo fare è andare a selezionarci questi sono i nostri due elementi utilizziamo l'opzione di simmetria quindi punto punto linea in modo che questi due elementi siano simmetrici questi due punti rispetto alla linea andiamo a fissare anche questa distanza quindi la distanza punto punto questa la possiamo fare di 4 forse 4 è poco perché poi verranno eliminati 2 facciamola di 6 così in questo modo 6 vanno bene e possiamo utilizzare adesso il comando di snap per esempio quindi selezioniamoci quest'arco e lo posizioniamo a meno 2 in questo modo e andiamo a chiuderci il profilo quindi selezioniamo il nostro profilo e questo e questo ci possiamo spostare nello spazio e possiamo estruderci questo elemento come distanza possiamo utilizzare 10 mm in questo modo e con questo elemento selezionato quindi l'ultimo elemento possiamo richiamarci il comando serie circolare l'oggetto è selezionato come lavorazione e come asse andiamo a selezionarci quindi una circonferenza qualsiasi e portiamo il numero delle quantità a 4 in questo modo adesso posizioniamoci sulla parte superiore andiamo a realizzarci un altro schizzo o ci proiettiamo la circonferenza oppure già la ridisegniamo la da ridisegnare in questo modo in modo che sia coincidente tra con facciamo la tangente con questa ok e utilizziamo ancora il comando offset in modo da utilizzarlo selezionandoci la nostra superficie lo portiamo ad un valore negativo direi di meno 3 mettiamolo ok così ci spostiamo nello spazio terminando il nostro schizzo e ce lo andiamo ad estrudere quindi estrudiamo questo ma andiamo ad estruderci anche questa parte che è l'unica che rimane isolata e la facciamo anche questo di un paio di millimetri 2 e andiamo ad enter adesso abbiamo bisogno del foro centrale da cui dovrà passare proprio l'antenna quindi su questa superficie andiamo a realizzarci la foratura oppure come al solito possiamo realizzare la nostra circonferenza in questo modo che dovrà avere un diametro facciamolo di 5 mm terminiamo lo schizzo e ce l'andiamo ad estrudere ovviamente l'estrusione in questo caso dovrà essere in questo modo con l'opzione taglia attivato e invece di estensione facciamo tutto in modo che arrivi fino alla fine e diamo ok quindi qui dovrà passare l'antenna adesso l'altra cosa che dobbiamo fare dobbiamo andare a realizzare un taglio nella parte frontale da cui poi l'antenna dovrà essere inserita spostiamoci sul piano yz questo ok e andiamo a realizzarci indipendentemente dal lato su cui ci troviamo quello che ci serve è un rettangolo mediante 3 punti e i 3 punti dovranno essere tali facciamolo fino alla fine perché dovrà effettivamente tagliare tutto il nostro disegno in questo modo possiamo imporre una condizione di simmetria tra questi due elementi e questo in modo che siamo sicuri che passi per il centro per l'asse diciamo del nostro disegno possiamo imporre una condizione di coincidenza tra questo e questo in modo che siamo sicuri che arrivi fino alla parte inferiore nella parte superiore non penso di poter non penso di poter imporre la condizione di coincidenza sì forse sì coincidenza tra punto e linea si può ok perfetto potremmo imporre la condizione di coincidenza tra questo e questo così dovrei riuscire a tagliarlo tutto ok sì quindi terminiamo lo schizzo e richiamiamo il comando estrusione l'andiamo ad estrudere di un millimetro con estensione specchiata simmetrico in questo modo e con l'opzione taglia mettiamolo ok quindi in questo modo siamo in grado di inserire l'antenna all'interno ovviamente questa distanza ve la potete giostrare la potete fare di un millimetro oppure di 0,5 a seconda poi delle vostre abilità ad esempio di stampa se ve la volete stampare oppure delle dimensioni con cui dovete giostrarvi apportiamo solo ultime modifiche piccole una è questa andiamo a fare questo elemento con un diametro di 3 millimetri in modo da realizzare questo ok lo facciamo dall'altro anche nella parte posteriore in questo e per la parte posteriore dovrebbe in teoria se vado a selezionarmi i 3 millimetri al solito 3 selezioniamoci e diamo l'ok ripetiamolo anche dall'altro lato magari facciamocelo direttamente sia questo che questo di 3 millimetri e diamo l'ok ok potremmo intervenire anche su questi elementi vediamo se ce lo fa fare altrimenti così invece di utilizzare i 3 millimetri io direi di utilizzare un valore inferiore ad esempio un millimetro però si un millimetro me lo fa fare ok va benissimo allora un millimetro più che sufficiente andiamo a selezionarci ancora il comando richiamiamolo e quindi andiamo a selezionarci per la nostra lavorazione anche quest'altro spigolo due spigoli aggiunge al gruppo di selezione posizioniamo anche questo facciamoli anche questi di un millimetro e ok bene si facciamoli anche per quelli anteriori forse un millimetro più che sufficiente per non avere problemi di interferenza e per creare magari questa zona con delle nervature in questo modo quindi questi due elementi e questo e questo e facciamo anche questo di un millimetro uno questo ovviamente non ce lo fa fare ma non ce lo fa fare semplicemente perché selezioniamo ne uno singolarmente un millimetro ok in questo modo lo possiamo realizzare e facciamolo anche per l'altro questi li potete selezionare tutti contemporaneamente quindi un millimetro è ok allora io direi di andare a raccordare anche questa zona la facciamo piccola di 0.5 è ok così che la stampante non abbia problemi in realtà potremmo arrotondare anche questo vediamo che succede se arrotondo questo sempre di 0.5 ok si va bene così potete introdurre ancora dei raccordi possiamo andare a raccordare la parte superiore e la parte inferiore potremmo raccordare gli elementi che ci permettono di effettuare il collegamento ma all'incirca diciamo che ci siamo quindi i parametri sono quelli che mi permettono di determinare la distanza tra questi due fori questa dimensione che tiene conto della distanza di attacco dell'antenna poi ovviamente l'angolo di inclinazione poi tutte le varie lunghezze che influenzano il disegno ovviamente questa dovrà essere stampata in questo modo quindi in questa zona potremmo avere dei problemi se le andiamo a stampare con delle angolazioni superiori ma in generale si dovrebbe poter fare ne esistono diversi modelli come mi è stato consigliato da uno dei ragazzi che segue il nostro corso provate vedere se trovate delle altre configurazioni ma comunque questo è il modo di procedere soprattutto nella parte intermedia dove si ha la necessità di creare questo loft e al solito se il tutorial vi è piaciuto e servito iscrivetevi condividete mettete mi piace condividete soprattutto i video in modo di aiutare il canale a crescere ci vediamo alla prossima